Il 28 dicembre 1895 nasce il cinema con i fratelli Lumière. Dal tempo impegnati in esperimenti sul procedimento fotografico, Auguste e Louis Lumière, figli dell'imprenditore e fotografo Antoine, trovano la strada spianata dall'invenzione di George Eastman, che nel 1885 aveva brevettato la pellicola cinematografica. Da questo partirono per mettere a punto uno strumento che fosse in grado di catturare e riprodurre immagini, fungendo al contempo sia da camera da presa che da proiettore. Azionarlo era l'operazione più semplice. Girando una manovella si avviava lo scorrimento e il riavvolgimento della pellicola, in modo da allungare il tempo delle riprese continue e registrare fedelmente le azioni compiute. Il destino volle che venisse brevettata con il titolo di Cinematograph. Esisteva infatti già un brevetto omonimo, rilasciato al connazionale Léon Boulis. Quest'ultimo, in seguito a restrettezze economiche, non fu in grado di pagare il canone di locazione per i suoi brevetti, lasciando di nuovo disponibile il nome che i due fratelli poterono riutilizzare per la loro macchina. Si arriva alla prima dimostrazione del funzionamento di quest'ultima, che avvenne in forma ristretta alla Société d'Incouragement all'Industrie Nazionale di Parigi, nell'aprile del 1895. Otto mesi più tardi ci si organizzò per il suo battesimo pubblico e il luogo prescelto dal fotografo Clément Maurice, amico dei Lumière, fu il Salon Indien du Grand Café, una sala nel seminterrato dello storico locale parigino di Boulevard des Capussins. Nonostante la pubblicità data all'evento nei giorni precedenti, si presentarono solo 33 persone, mentre la stampa snobò completamente l'invito. Ai presenti vennero proposti dieci episodi, dalla durata ognuno di un minuto scarso. Dal comico L'innaffiatore innaffiato, alla tenera La colazione del bimbo, il filo conduttore era la quotidianità riportata senza filtri sullo schermo, scene di vita reale che fornirono insieme un primitivo esempio di documentario. Gli spettatori ne rimasero strabiliati e in pochi minuti all'ingresso del locale si formò una calca di 2000 persone, desiderose di scoprire la meraviglia del secolo. L'iniziale successo spinse Augustin e lui a produrre il cinematograph su larga scala e a mostrare il funzionamento in giro per il mondo.